Sì Sono in promo Sono in promo Voi non sapete Neanch'io so in realtà come ho fatto Però ci sono Le ho vinte anche molto bene le partite Nel senso che ho giocato bene Mi sembrano dei belli score Onesti Vedete anche che sono top top tutto il tempo Io ormai non metto più neanche mid top Metto top mid direttamente perché mi rassegno Vado top ormai e vi lascio la mid A chiunque venga In squadra con me ormai stop sono io Perché ormai non ci posso andare La riot non mi vuole mid Mi sono anche Leggermente adeguato con le rune Infatti ne ho ideato Tra virgolette una Se la ritrovo eccola qua Che non ha più il domination come secondo ramo A Resolve che secondo me è una cosa che Devo non nerfare o nerferanno Secondo me Non lo so perché è forte E mi sono messo Questa qua che è quella nuova Che fa ridurre il danno flat Che si subisce Ed è sbroccata Questa cosa è sbroccata Ho visto che tutti in top se la mettevano Ho detto perché non me la metto anch'io E ho visto i risultati Quindi Provatela Se non vi piace comunque provatela E vedete che Non è niente male Comunque bando alle ciance Top mid Speriamo che andremo a top sicuramente E si va A vincere Speriamo Draven scripting Spero scripting veramente Che così Finiamo in fretta Ah mi stavo quasi dimenticando In questi giorni Sto ripreparando Sto quasi finendo Di ripreparare tutto quanto Per gli streaming Infatti è finita la sessione Ve l'avevo detto E ricomincerò a streamare Gli hanno fregato Draven Mannaggia A quel summoner 1 Comunque Ricomincerò a streamare E non so bene quando Però Penso un giorno di questa settimana E poi vedrò Con le prossime settimane Come fare Però Intanto si ricomincia Però dai si chiama Draven scripting C'ha la tag Exis E se questo qua gli ruba Draven Cioè è più triste di me Quando mi prendono Jace Shinged Oh Peccato per Jarvan Però Shinged va bene Ho controllato Non so che non devo farlo Ma ho controllato PGG E Tristana È in promo per Diamond Con il Draven scripting Ha 2 win 2 loss Quindi deve vincere Sto game Quindi si deve Tagliardare al massimo Comunque vi dicevo Che secondo me Il Resolve 3 È sbroccato Alla fine da Come messo come secondario Da comunque Tanti AD Tanti AD Cioè da 2 in meno Se non sbaglio Di quando metti il Domination Te ne frega niente Di 2 AD Da HP Flat Normali Dai Armor Con una delle 2 rune E poi anche il danno ridotto Cioè il danno che subisci Ridotto per 3 colpi Flat A me pare davvero tanto Come cose Adesso ho 72 AD A 721 HP Che me ne da 70 Se non sbaglio La cosa Cos'è? 65 di vita in più È un auto attack Metti 1 e mezzo Praticamente Una spell A livello 1 Ok Singed è molto simpatico È di quelli che puntano A fare tante cose divertenti Trissana comunque FK What? Dai non me l'ha ucciso Questo Che succede? Io non perdo neanche Un minion Posso andare avanti Così quanto vuole Ha messo la ward E si è fatto fare L'execute Maledetto Anche il loro Draven FK La testana È tornata Ok Il fatto è che Non fanno remake Cosa mi significa? Mi va bene Non mi lamento Vabbè Voglio restare Perché comunque Prendo l'exp E adesso Ma è la push Quindi sta wave La prende È la wave del carretto Quindi prendo Un bel po' di exp Mi dive Anzi mi shottano Diciamo che non mi aspettavo Quel danno Di combo Ma vabbè Non è un grosso problema Se Draven Non si riconnette Semplicemente Io farmo E aspetto Non voglio fettarlo Perché è il 6 E non lo uccido E non mi conviene Perdere tanta vita Perché tanto Dopo devo andare Back Ha ultato Ottimo Ci ha perso tantissimo In sto trade Si rimane Muore Si sei un idiota Easy And please open Oh Che bello Oh La prima prova Per Diamond 4 Della season Inizia con un open Del team nemico Sottolino Del team nemico Non nostro Arriva In teoria hanno detto Tutti ok Che va bene Di fare l'open Quindi Vengo anche io mid La porta Li capisco Niente da dire Alla fine Si è riconnesso A due minuti Può essere disconnesso Quindi Fare remake Non potevano Giogare in quattro Non è il massimo Del divertimento Quindi alla fine Beh ragazzi Un game è molto Complicato Difficile Ho sudato Mi giuro Fuori fanno Meno 25 gradi Ma io sto sudando Qua dentro Dalla fatica Che ho fatto In questo game Per vincere Le lane Soprattutto GGWP Ottima partita Bravi alleati A posto 1-0 Chiediamo l'honor A Tristan Che hanno abbannato Draven E non ha fatto Nessun accenno Di rage Niente Quindi Buono Andiamo avanti Non sono gli stessi Ovviamente sono top Ma me l'aspettavo Poppy Era ciò che l'hanno abbaffata Non dovrebbe neanche essere male Non l'hanno ancora abbaffata Non mi ricordo se l'hanno già abbaffata O se è nel pb Comunque non ne vedevo una Da parecchio Fiora Mmm Sarà una lane Di quelle pericolose Dove se gioco bene Bene Se gioco male Me la prendo dietro Anche lei C'ha La runa Che riduce i danni Peccato che abbia solo difese Praticamente Con il donut shield Come primo item È un po' un rischio Andare All in adesso Magari È da qualche livello Più che altro Se mi gank a Poppy Devo per forza Affresciare Praticamente Che succede Mi stanno facendo Di fight intensi Uh Mi piace Mi piace Mi piace Buono Buono Continuano a fare kill Attenzione Solo leone è morta Va benissimo Chiede aiuto in giungla Sto arrivando Sto arrivando mate Sto arrivando È morto È morto Grazie Ti ringrazio Così ho preso Una bella kill Uh Ti ho visto Poppy Sono indietro di farm E pozze Giusto per avere Cloth armor Scarpe E Doran E Dirk Si rimane Muore 100% A meno che non ci sia Poppy Che è bot È in giungla Bot mid No non mi conviene Romare ancora Perché sono Troppo indietro di farm Anche se prendo una kill Non è morta In questo momento Lo sarebbe Perché Si si lo so Che sta per venire Lo sarebbe Perché Comunque darei Anche un assist O magari darei Comunque direttamente La kill Al mio alleato Però per me no Ok 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 Dub Ma fa proprio schifo Davvero Cos'era Questo Questo gank Un po' Un po' meno Ma va bene Lo stesso Non so Ho ancora paura A feitarla Un sacco di vite Forse sono Un'impressione mia Più c'è anche Quello schifo Di run Ogni volta A me sembra Più che altro Che Non solo io Ma anche lei Si è spaventata Perché potrebbe Comunque a meno Rispondere ai trade Invece non lo sta facendo Però non vedo poppy E ho paura Visto che il drake L'ha fatto tranquillamente Io metto una bella ward E visto che qua È pinkato Ho fatto bene A controllare Non lo so Lei rimane anche Non dovrebbe Penso lo sappia Che rischia E c'è a zi C'è poppy là Ok Posto No No Ce la faccio Allo stesso Per fortuna Però ho rischiato Non ce la faccio Neanche Che palle Si è salvata Dai Era una kill Facilissima Ho pure Missato la Q Ma va bene Dai Non uso di più Perché potrei Dover aiutare Mid Che qui Missa poppy O forse no Come non detto Vabbè Posso dire Di essere fortunato Oggi È una bella giornata Stavolta La fortuna Era della mia parte A parte per le kill Per il resto Che è la cosa importante Cioè Che tutti Vincano la lane Ci avrà ancora qui Spaventata Adesso Lushin Oh Mi è piaciuto Ciao 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 Con la manina Ciao Li stanno fightando Leona morirà Forse anch'io morirò Però la torre No dai Gianna Gianna Maledetta Se avessi mana Ti farei neanche fuori Ma non ce ne ho Cosa? Gianna Cosa? Oggi Si suicidano Proprio I'm fully Triharding Autofilled With this Azir And dead Perfetto Dai che anche questi qua Non fanno open Sicuramente Perché sono tutti tiltati Semplicemente vogliono Scassare le palle E scrivere in chat Però È un ottimo game Uh Cattivissimo Quei flash Ciao Edze Bene Pushiamo Myth Inibito Ce la facciamo A farlo Non penso C'è un red buff Vengo a farlo Ma perché Daivano così Qual è il loro piano What the fuck Uh Beh ragazzi Mai fatto una promo così Ve lo dico Mai Ma mai Mai Va bene Va bene un game Così Trollino Trolloso Lolloso XD XD Però Non così Due di seguito Una promo intera Guarda Stanno intando Mi dispiace Per il team nemico Non è vero Lo dico solo Per sembrare Onesto In realtà sto correndo Come un porco Però si La reporto Gianna Per Per inting Perché lei sta intando Lei si L'ha pure ammesso Non c'è nessun problema Dalle porto Però Non so Il KDA me lo boosto Così quasi Mi teleporto bot Perché tanto Non ho molte cose Da fare E continuo a pushare Perché tanto Cioè la finisco Anzi Continuo a pushare La finisco direttamente GG WP Eh sì Un po' di dub Così Anche se in realtà Non ha fatto niente Di speciale Però devo dire Che comunque Il dive Cioè il dive Il gank Che mi hanno fatto In top Non aveva alcun senso Cioè lì già Avevano perso la lane Sia la top Che la mid Facendo quella cosa La mid Perché ha romato top Inutilmente Ed è c'è morto pure Ha anche flashato In teoria Non mi ricordo E Fiora Perché dopo è rimasta lì A far niente Però l'importante È che L'animazione è Buggatissima Non c'è il Ecco l'arrivato Diamond 4 ragazzi Uuuu Che bello Che bello Che dire Io speravo Cioè speravo Pensavo Ero quasi Rassegnato Al fatto di dover fare I miei soliti 3 game di promo Invece ne ho fatti Due di cui uno Ho durato 10 minuti E uno 20 minuti Cioè in 30 minuti Ho fatto una promo Non posso essere Più felice di così Non sembra Perché sono un po' Frastornato Però Sono contento Wow Diamond 4 Tempo di andare a Diamond 3 Ciao a tutti 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 Ciao a tutti